Quali sono le priorità per la sanità nel Lazio? Non tornare indietro, questa è la priorità per la sanità nel Lazio. C'è bisogno di non tornare ai debiti e agli sprechi della destra che hanno costretto i cittadini del Lazio a oltre dieci anni di un pesantissimo commissariamento. Oggi la sanità nel Lazio può ripartire, può ripartire col metodo che Alessio D'Amato ha usato sul Covid. Una straordinaria capacità organizzativa oggi deve essere estesa a tutta la sanità ma soprattutto all'abbattimento delle liste d'attesa. Priorità assoluta.